e entusiasmo perché non ci sarebbero più motivi, almeno stando così in corsa c'è qualcosa di più da raccontare e da giocare. Tu immagini un po' se il Bari dovesse vincere a Livorno e la Roma dovesse battere l'Inter, che partita sarebbe il 2 aprile Bari-Roma? Io la chiamerei la partita del nuovo secolo del Bari, una cosa pazzesca. Sì, ma ha ragione d'altronde con l'esperienza che ha Gianni Antonucci, bisogna continuare su questa scia di entusiasmo, di risultati, di prestazioni dei giocatori che stanno anzi migliorando, per cui guai a perdere. Andrebbe bene anche il pareggio per continuare a sperare, sperare in quello che non era il nostro obiettivo principale, primario, ma arrivare finalmente, per la storia del Bari, a un posto in Europa, per cui io ho fiducia, ho fiducia soprattutto nelle capacità che ha Ventura di motivare questi giocatori. Ricordiamoci che dopo 5 sconfitte il Bari ha cambiato nuovamente la sua mentalità e le ultime prestazioni che abbiamo avuto sono state più che degne. Parle 4 sconfitte conseguentie. 4 sconfitte. Perchè dovrebbe esserci una pausa pubblicitaria e poi torniamo con il giochino, con altre curiosità. Abbiamo anche qualche intervista da smaltire legata ad alcuni dei personaggi che hanno caratterizzato Bari-Sandoria. Giù le mani da Telebari, ho sentito in precedenza Michele Cristallo che diceva, usando come spesso capita nella vita un linguaggio calcistico e sportivo, il decreto del Tar ci permette di andare all'intervallo in vantaggio per una rete a zero, però bisogna vincere la partita se ne in fondo. È stato di fatto che comunque, ripeto, credo che ci siano pochi dubbi su quello che è accaduto, ripetiamo, è stata data la possibilità a un altro emittente di alloggiare, usando anche in questo caso un termine magari improprio, sul nostro canale. Quindi gioco forza, più prima che poi bisognerà spegnere questo canale. Intanto alle nostre spalle immagini di un Bari-Livorno, una partita giocata a San Nicola. C'è un amico in linea, ricordo che abbiamo il giochino anche, dobbiamo segnare un premio offerto da Punto Grafica 2. Pronto? Pronto Enzo, carissimo, è solo Enzo. Ciao Enzo, ciao. Ciao Enzo, ascoltami, io purtroppo non riuscivo a prendere la linea ieri in poveriggio e volevo esternare quello che mi è accaduto il mercoledì. Una giornata magica, dalla mattina fino a luna di sera. La mattina perché non mi aspettavo che dopo la conferenza stampa, quando ci fosse Perinetti a visionare il film, mi ha abbracciato ed è stata una cosa stupenda. Un meglie paese, questo è il film al quale... E' una grandissima persona, guarda. Mi ha veramente emozionato. Poi, non ti dico, allo stadio per la prima volta, non so da quando mi è mai successo forse, mi sono emozionato, forse mi è scappato, parliamo a livello sportivo, questo si vede il vero tifoso. E ho pianto al secondo gol e mi sono emozionato quando nessuno ne parla, quando Barreto ha fatto quell'aggancio e ha fatto quel pallonetto che stava entrando in rete. Io queste cose, guarda, forse recriminavo che non potevo dire, ma non mi interessa. Mi hanno emozionato. Poi Cassano, l'ultima cosa, per me ha fatto la parte del gran signore. Per me è immaturato, per me è dall'inizio fino alla fine. Questo volevo dirti, e viva lo sport, che per me è vita Enzo, ok? Me ne rendo conto. E lo dimostro nel film che ho partecipato. Vi abbraccio caramente. Grazie, grazie Enzo, grazie. Intanto vediamo un gol di Dudu, ecco la maglia del Bari. Questo è l'anno che purtroppo finì male per il campionato, con Pillone, però il Bari sconfisse il Livorno, che era una delle grandi del campionato per appunto in quella stagione. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Il giochino, il giochino. Vediamo se qualcuno. Il giochino, vediamo un po' se... Intanto per quello che riguarda la formazione del Bari ho poco da dirvi, perché comunque il Bari si allena oggi pomeriggio. C'è l'idea di un mezzo turnover rispetto a qualche elemento che magari ha dato molto o comunque stanco, si pensa a far riposare Gazzi e a far giocare Donati dal primo minuto. Insomma, si pensa a qualche soluzione di questo tipo sull'esterno. Potrebbe non giocare Rivas e potrebbe esserci invece spazio per Coman oppure per Allegretti. Insomma, staremo... o per Camatà addirittura. C'è un amico in linea, pronto? Pronto, ciao Enzo, sono Lino. Ciao Lino, ciao. Ciao, prima di tutto Giulio le mando a Telebari e poi tutti i resti. Vai. Mi fai vedere la foto? La foto, vai. Adesso la facciamo vedere mentre stanno ancora scorrendo delle immagini della partita a Bari-Livorno, ma tra poco mostreremo la foto. Possiamo mostrare la foto? Ecco qua. Senti, hai detto che sta nel calcio. Ci legano dei buoni ricordi a questo giocatore. Un giocatore anche molto serio sul piano umano, una persona per bene. Ma per caso fa l'allenatore, il procuratore? Non mi puoi dire niente. Ti dico che non fa il procuratore. Ecco. Senti... Adesso credo che in questo momento non si è impegnato nel calcio, però lo era sino a qualche tempo fa, qualche mese fa insomma, comunque insomma che dirti, dovrei dirti tutte le cose come stanno, però diciamo che se sta o non sta non dipende solo da lui o non non dipende da lui. Ma non mi vieni, difensore non perdono niente. Non sono un sadico e non mi sto divertendo con te, però il giochino bisogna tenerlo abbastanza vivo. Ti dico soltanto, è l'ultima cosa che ti dico, che non è un attaccante. Ho capito. Garzia no. Chi? Garzia? Garzia, no, non è Garzia. Non è Garzia, però devo dirti che insomma... Dico fuoco, fuoco si dice in questi casi. Grazie comunque per il tuo intervento. 080 501 9998 per le vostre telefonate, ricordo che siamo anche in diretta su Radio Bari o attraverso il sito www.radiobari.net. Grandi emozioni ancora, il Bari sta offrendo delle notti pazzesche perché io dico, insomma, quando si accende il riflettore del San Nicola il Bari c'è e è alla grande. Tranne che col Milan. Tranne che col Milan, l'unico passaggio a vuoto è stato col Milan. Che cosa può segnare questa stagione per te? Secondo te siamo all'alba di una nuova fase del calcio barese o temi che possa essere un exploit? Questo dipende molto dal programma, da quello che la società vorrà fare e l'impegno anche economico che la società vorrà fare, bloccando innanzitutto i due artefici Ventura e Perinetti e poi iniziando a pensare sin da adesso alla sostituzione di quei giocatori fondamentali che siamo certi che andranno via. Affinché la rondine non faccia primavera perché non hai detto che sia così, insomma. Esatto. C'è un amico in linea, aspetta Vito perché abbiamo un amico in linea, non voglio far aspettare molto. Pronto? A voi Enzo, ciao Pino D'Agrumo, come va? Ciao, la valletta me l'hai trovata o no? Sì, Penzo, stanno Rina e Pasquini, due amiche mie, se volete possiamo portare. Li portiamo due addirittura, due vallette di Grumo Apo. Eh, no, ma stanno in carne, sono belle. Come? Stanno in carne, sono belle. Stanno in carne, va bene. Ok. Allora, vuoi partecipare? Siete, ma ci crediamo in questa Europa o no? Io sì, io ci credo. Ma ce la facciamo con i giocatori che abbiamo, insomma. Deve andare tutto bene, a mio avviso, se il Bari ha tutti i titolari a disposizione, ce la può fare. Se vengono meno alcuni giocatori, tipo Barreto ad esempio, faccio un nome, ma non faccio… Io credo che il Bari abbia già perso dei pezzi importanti. Se perde qualche altro giocatore, è chiaro, se al Miron non ha la possibilità di giocare tutte le partite, se Barreto, è chiaro che il Bari diventa una squadra che magari avrà tante buone idee, ma manca di qualità. Ecco, tanto per intenderci. Quindi se tutto ci va bene, a me invece giocavo sin in fuori. Hai visto la Juventus, la Juventus è in corsa per la Champions League, insomma, ma che cosa abbiamo in quest'anno meno della Juventus? Sì, in effetti c'è proprio ragione Enzo, comunque a Livorno li facciamo neri a questi qua, eh. Vabbè, vuoi partecipare al gioco?